C'è Puglisi che oggi ha scritto che praticamente in Italia c'è una voglia matta di appellarsi con dei titoli per avere credibilità. Sì, perché è un paese di mentalità non borghese, ma signorile, aristocratica, tutti con i titoli. Ma anche a me da fastidio ti chiamano dottor, professore, a me viene semplicemente il grande De Andrè, truffatore e imbroglione. C'è una canzone di Andrè che c'è il dottor, professor, truffatore e imbroglione.